So che ormai siete preparatissimi, pronti e scattanti per affrontare le sfide di triplo carpiato di buon gusto nella nuova nevosa puntata dei fotoromanzi disagianti vintage di Barbie. In questo nono numero, la signora di ogni plasticanza sta presumibilmente per spiccare il volo con un completino sobrissimo degno di uno spettacolo di Las Vegas. Per introdurci al primo fotoromanzo, dal titolo arriva Barbie's Key, che manco ci hanno provato a nascondere il fatto che tutta la storia fosse una marchetta per promuovere la nuova bambola in uscita. In una jeep che incredibilmente non è la parte frontale del camper da sogno, Barbie e Midge stanno esternando la loro gioia per la giornata che passeranno a sciare. E arrivano così alla funivia, perché i pezzenti ce vanno a piedi, le imperatrici del rosa col macchinone. Ken, per non essere da meno ed aumentare il tasso di inquinamento, arriva con la motoslitta più pacchiana della storia. Dagli accostamenti cromatici discutibili di arancio fluo, rosa shocking e blu ed una tuta altrettanto sobria, devo dire. Verde lime con decorazioni geometriche da mal di testa degna del guardaroba di Marzio di Sailor Moon. E per rispettare il suo spirito zerbinesco ha già pagato lui gli ski pass, perché sia mai che Barbie debba pagare qualcosa in vita sua. Di lì a poco tenta disperatamente di recuperare la sua dignità perduta, facendosi ganso sullo snowboard, ma ottiene soltanto di farsi dare del pigrone dalla signora di ogni biondezza. Dopo parecchie veloci discese, parole testuali, Ken propone una pausa a cioccolata calda. E siccome Barbie era stanca, si fa scarruzzare in motoslitta da Ken, e siccome non c'era posto, Midge giustamente se la fa a suon di sci fino a valle. Logicamente Ken e Barbie arrivano per primi, ma tu guarda, mentre Midge arriva mezz'ora dopo battendo i denti per il freddo. E notiamo che i due manco l'hanno aspettata per iniziare a bere la cioccolata calda, infamissimi proprio. Siccome però Barbie non è ancora soddisfatta della giornata, propone di andare a spendere altri soldi in un nuovo negozio di sci. Leggasi un triangolo senza manco le porte dove ci stanno quattro cose in croce. Ma a detta di Midge vendono proprio tutto. Ken infatti si sofferma ad ammirare quello che chiama monosci, ma che praticamente è uno snowboard come quello che stavo usando prima. Mentre Midge propone di acquistare dei pattini, magari per svagarsi un po'. Ma subito l'imperatrice di ogni valanga propone una gara. E se lei lo propone, così sa da fare. Ken evidentemente aveva parecchio caldo in quanto si mette a pattinare sul ghiaccio, che maniche corte. Barbie indossa un gonnellino, nemmeno dovesse partecipare a un saggio. Mentre Midge, avendo proposto proprio lei di acquistare dei pattini, evidentemente aveva finito il cash e non se li era potuti comprare. Accontentandosi di un bob da dove guardare gli altri che si divertono. Manco a dirlo, Ken fa una scivolata clamorosa e finisce col culo sul ghiaccio. Midge si premura se non altro di verificare che l'amico non si sia rotto l'osso sacro, mentre Barbie, come al solito, se la ride. Carogna. Quella sera, per rimediare la sua figura di tolla sui pattini, Ken indossa il maglione più brutto su quale è riuscito a mettere le mani. Oddio, anche se non è che la protagonista sia da meno con quell'outfit urendo. E sorprende l'imperatrice del Barbie licesimo con una romantica passeggiata in slitta. Vuoi il freddo, vuoi le stelle, vuoi l'atmosfera, ma Ken si allarga decisamente, arrivando addirittura a metterle il braccio attorno alle spalle, decantando le sue doti romantiche. Ma la donna, per tutta risposta, gli ride in faccia. E anche oggi si ciulla domani. Nel secondo fotoromanzo troviamola sempre messa da parte Marina, che freme per festeggiare il suo compleanno e dà la meravigliosa idea di invitare tutti i suoi amici a cena. Cioè, spai, li inviti lo stesso giorno? Oh, ma la gente si deve organizzare, figlia mia, non puoi fare queste improvvisate! Siccome telefonare da sfigati, la ragazza decide di andare ad invitarli di persona uno a uno, cominciando da Teresa e Skipper, che però sono impegnate rispettivamente con un concerto rock e come babysitter. E come cosplayer del canarino Titti, mi sentirei di aggiungere perché con quel piumino giallo limone peloso, non so cos'altro ci debba fare. Marina passa così a stalkerare Barbie, e ci si domanda legittimamente come faccia a beccarli tutti i suoi amici, probabilmente li traccia con GPS. Ma anche lei la glissa con nonchalance, così come fanno Alan e Ken, che indossa lo stesso maglione e guida lo stesso veicolo visti nell'episodio prima, perché riciclo è la parola chiave. Siccome Christie ha spento il suo GPS sottocutaneo, Marina si deve accontentare di chiamarla e riceve anche da lei un sonoro ciupa. Così, rassegnata, la ragazza torna a casa in braccio a uno swiffer e si mette a pulire, per poi cenare con in sottofondo tristezza appalate di mariottide. Ma ecco che la signora di ogni rosanza le telefona per chiederle in prestito l'auto, e Marina da brava zerbino si offre subito di portargliela. Cioè, se un'amica si dimenticasse del mio compleanno, l'unica cosa che potrei prestarle è il mio rancore. Ma lei no, si mette in marcia e guida fino a casa di Barbie, dove però si ritrova ad una festa sorpresa in suo onore, dove vale la pena commentare velocemente gli outfit dei partecipanti. Christie è praticamente una cosplayer di una sirena, Barbie ha una gonna che sta volando in alto per i fatti suoi, Ken pare in cameriere, Alan ha una giacca che è ricavata presumibilmente da un tappeto, Teresa invece si è fatta il vestito con le tende come Giseline come d'incanto, e Skipper non ha ben capito che la festa non è per lei, e si è vestita da principessa wannabe. La storia si chiude con la solita risatina cringe, e Marina che si augura che tutti i suoi compleanni futuri siano come quello odierno, ovvero tre quarti di giornata passati a pensare che gli amici si siano dimenticati di te? Contenta tu! Ed è tutto per questa nuova festeggiante puntata dei fotoromanzi disagianti vintage di Barbie. Noi come al solito ci vediamo alla prossima, ciao! E se volete evitare imbarazzanti feste di compleanno dove tutti sono vestiti a cacchio, fate come Indy, dormite, dormite che è meglio, si mette anche la zampetta sugli occhi così la luce non gli dà fastidio, guarda queste zappottine, ecco, lo invidio, almeno lui si può evitare tutte queste cose socialmente inutili, un po' lo invidio eh, sì, ciao, ecco, mi ha preso il dito, quindi neanch'io posso uscire per andare a compleanno della mia trizzzia, zavola, e quindi, mi spiace, devo stare a casa, mi spiace tanto, devo guardare il gatto che dorme. Il triplo carpiato del buon giusto nella nuova sbagliata, la signora di ogni pasticanza è sì domani, titolo arriva Barbie Sky, che dagli sci al cielo è un attimo, incredibilmente non è la parte frontale del camper da viaggio di sogno non viaggio, giornaggia, perché i pezzelli ci vanno a piedi e no sbagli, arriva con la motositta più dimenticato la L, già pensato lui a scacciare i soldi che no scucire, le propone una pausa calda, che detta così è bruttissima, era cioccolata calda, e la fa a suon di sci fino a terra, Valle non sta volando, ah no beh, Barbie Sky vola quindi a terra, non è ancora soddisfatta della giornata e proporre subito la governatrice di ogni valga, no, accontentandosi di uno sbob dove, rimediare alla figura di Tulla, con una romantica passeggiata in neve, slitta, e alla favolosa idea, Marina passa così a schilchelare, che cosa ho appena detto? la ramazza in, altro che macchina, potrei prestarci solo, no, Alan ha una giacca ricavata da un tappieto, la storia si chiude con la solita risatella, cringe, e no, la famina, continuer, ha una tappieta di leaves, come� a sentimento, ma sintetica,